Amiche e amici, ben trovati per questa nuova puntata di TeleAler Milano. Siamo in Viale Romagna, dove ha sede l'Aler di Milano. Siamo in compagnia dell'amico Mirko Talamona, che è responsabile sicurezza di Aler Milano. Mirko, ben trovato. Perché siamo con Mirko? Per il semplice fatto che nei giorni scorsi è stato finalmente ripulito e liberato il, lo chiamo sottopasso, ma di fatto sono i box sotterranei di un complesso edilizio di Aler che stava dando qualche problema negli ultimi tempi, ovvero via Saponaro. La criticità di quella zona e le persone che avevano trovato, occupando abusivamente una dimora nei box, era ormai un fattore che non poteva più essere tollerato. Quindi Mirko Talamona, come responsabile di sicurezza, ha provveduto in vari step, e adesso lo scopriremo, alla liberazione dei box e soprattutto alla ripulizia di quegli ambienti. È così Mirko? Sì esatto, una quindicina di giorni fa abbiamo fatto intervento in supporto alla polizia, alla costura di Milano, nelle box delle torri di Saponaro, 32, 34, 36. Era una situazione abbastanza incresciosa che persisteva ormai da troppo tempo. La fortuna vuole che in questo lasso di tempo i colleghi tecnici dell'OG sono riusciti a ripristinare, anzi a installare dei nuovi cancelli per poter chiudere i corridoi dei box. Cancelli anche strutturalmente molto importanti e di difficile vandalismo, posso dire, perché sono molto imponenti. Grazie appunto a questa installazione si è decisi quindi di intervenire a rimuovere le masserizie presenti e allontanare i soggetti non autorizzati. Entro un attimo nei dettagli abbiamo trovato più o meno una quindicina di persone non autorizzate. All'interno di questi corridoi vi era di tutto di più, non entro nei dettagli ma potete benissimo immaginare, anche perché alcuni spazi venivano utilizzati come bagno. Quindi nel bagno si fa un po' di tutto, dal lavarsi e oltre. E addirittura avevano aperto una cella che custodiva un quadro elettrico per potersi allacciare abusivamente e caricare i telefonini o guardare altri strumenti elettronici. Con questo intervento abbiamo appunto allontanato questi soggetti, pulito tutto, è stato un intervento abbastanza impegnativo, durato due giorni, di cui il primo, quello più importante, appunto con supporto della polizia che ha identificato e allontanato questi soggetti e poi i colleghi dell'OG, i tecnici del settore servizi hanno provveduto a ultimare il lavoro di pulizia e ripristino. L'esito più che positivo, i commenti dei cittadini sono più che positivi, alcuni particolari tecnici dovuti a magari un pochino di superficialità degli inquilini, perché magari lasciavano la porta del carraio pedonale aperto, quindi qualcuno si era intrufolato, però una volta attenzionati e sollecitati sono riusciti a tenere chiusa sempre la porta di questo carraio, quindi il problema sembra risolto. Questo cancello che come avete visto dalle immagini è davvero imponente, si apre e si chiude poi automaticamente. Esatto, gli inquilini aventi diritto che hanno i box hanno sia la chiave che il telecomando per poter accedere, quindi... Però in caso di magari uno si dimentica è, si chiude da solo. Si chiude da solo. L'unico particolare è che sul tutto il carraio c'è un passaggio pedonale che ha chiave e quindi abbiamo sollecitato gli inquilini di una volta usato di richiudere la chiave, se non la serratura essendo antipanico a spinta rimane aperta. Chiudendo non si può aprire dall'esterno ma è solo come via di fuga dall'interno con il maniglio antipanico. Questo è importante perché se non c'è la chiusura di mandata dall'esterno ovviamente c'entra chiunque perché risulta aperto. Ecco, io amo ricordare nella mia carriera giornalistica una delle trasmissioni più seguite era Milano Trash che dedicava proprio il suo tempo a queste situazioni di abusivismo, di occupazione abusiva e di sciatteria, cioè persone che oltre a dormirci sporcavano con di tutto e di più i corridoi e i box. È bello, è bello davvero sapere che un'azienda pubblica come Aler sia intervenuta in maniera massiccia per porre fine a questo tipo di problematica e siccome noi facciamo parlare le immagini, le immagini che avete visto mostrano adesso un ambiente è davvero sano, pulito e soprattutto alla portata di cittadini che vivono per bene, onestamente, che pagano le loro spese, che hanno tutto il diritto di godersi il loro immobile. Naturalmente sì. L'unica cosa, se posso ringraziare anche gli inquilini perché hanno dovuto pazientare un pochino, ma volevo ribadire che i cancelli sono stati fatti appositamente e su misura, quindi i tempi d'attesa sono stati dettati dalla creazione di questi manufatti che però sono stati utili così come sono stati creati per poter arrivare alla fine del lavoro, quindi la chiusura definitiva. Sicuramente nessuno sarà in grado di poterli manomettere o aprire perché sono dei colossi che diventa veramente impossibili, quindi grazie agli inquilini che hanno prezentato ma alla fine il risultato è arrivato. Un'ottima sinergia tra Aler Milano e inquilini. Naturalmente se volete mandare una mail o una segnalazione a Mirko Talamona e più in generale alla presidenza e alla direzione, la mail è sempre la stessa stampa chiocciola aler.mi.it grazie e buon lavoro a Mirko Talamona e naturalmente grazie a voi per la vostra cordiale attenzione alla prossima puntata.